Rullo di tamburi, prego! Benvenuti a Tritoppington! Sì, vula! Dove il cielo è il limite! Lei è Eva! Ciao! Una piccola civetta dalle grandi idee! Non pensavo avrebbe preparato la delizia più stupevolante di sempre! È calato il sole! Ok, classe! Diario! Su, classone, brava a fare qualunque cosa! Vorrei essere la migliore in qualcosa! Sì! Campiamo dai! Basato sulla celebre collana di libri, Owl Diaries! Diario! Volevo fare le cose a modo mio! Ma in realtà, il sistema di Humphrey ha reso tutto molto più facile! Crescere tra gli alberi! Dovresti andare a scuola! A che arriva primo, Humphrey? Ci sto! È uno spasso! Le avventure di Eva! Campiamo dai! Ampettate! Viola, Giant. Da, scus... Ta, Coca! ben... ... Imi lo... ...